Noi ci troviamo in un momento di grandissima rivoluzione per quello che è la comunicazione. Noi comunicatori di base siamo sociologi, quindi andiamo ad osservare quello che accade nella società e i loro mutamenti. Un po' come quando c'è stato l'avvento della TV, della radio, di internet e dei social, la cosa più importante che è cambiata, oltre all'infrastruttura, ai device, a tutto ciò che girava intorno ai nuovi canali e ai mezzi di comunicazione, la cosa forse più importante sono i propri contenuti. Quando è arrivata la TV siamo passati da contenuti statici a contenuti dinamici, le storie mutavano. In questo momento ci troviamo in un'ulteriore rivoluzione di quello che è la comunicazione, l'essenza della comunicazione, ovvero i contenuti. In questo momento noi stiamo facendo un grandissimo lavoro di alfabetizzazione su molte aziende, perché adattare e creare contenuti per il metaverso significa portare la visione di un'azienda in una fase, probabilmente molto più verso il futuro rispetto a quante oggi, perché oggi ci troviamo in un primo momento del mondo metaversico o di quello che definiamo metaverso. Quindi il metaverso non è un comunicato stampa dicendo che ho comprato un pezzettino di terra su Sandbox, non è neanche un'iniziativa su Roblox e basta, ma è proprio capire e percepire che l'azienda ha bisogno di evolversi un po' più verso una media company, perché sono solo le aziende che capiscono che è la centralità dei contenuti e quindi diventano produttori di contenuti loro stesse che entreranno nel futuro della comunicazione conquistando fette di mercato e mantenendo la competitività. Questo ci viene raccontato da tantissimi casi che oggi ci sono sul mercato.